Su questo canale avete visto tanti video dedicati ai Galaxy Watch che effettivamente utilizzavo come smartwatch principale utilizzando un device Samsung, ora però che ho preso il Pixel Fold e c'era in omaggio il Pixel Watch ho detto utilizziamo il Pixel Watch per avere un'idea anche dell'ecosistema Google relativamente agli orologi tra l'altro dall'uscita del Pixel Watch è passato un anno quindi praticamente c'è stata l'occasione per Google di avere aggiornamenti aggiungere funzioni, di regalare magari ulteriore stabilità a questo orologio e quindi cerchiamo di vedere in questo video se e come può essere una reale alternativa ai Galaxy Watch Allora insieme al Pixel Fold regalavano anche il Pixel Watch che quindi ho deciso di utilizzare come mio smartwatch principale prima avevo il Watch 4 che è qua, adesso l'ho fatto il pairing con il Fold 4 che avevo prima del Pixel Fold in modo da vederlo in funzione il Watch 4 che è vero ormai è una due generazioni indietro però di fatto soprattutto rispetto al 5 è cambiato pochissimo ma anche il 6 non è proprio uno stravolgimento quindi secondo me è un paragone che può essere fatto anche per chi ha dubbio di prendere il Pixel Watch o il Watch 5 o il Pixel Watch o il Watch 6 suddividerò questo video in tre blocchi il primo blocco nelle cose che ho trovato peggiori nel Pixel rispetto al Galaxy quelle in cui sostanzialmente siamo pari e quelle in cui invece vince il Pixel Watch partiamo con una questione meramente hardware e il fatto che di fatto il Pixel Watch non ha un rating IP contro il rating IP67 di cui dispone il Galaxy Watch 4 e superiori è vero che comunque viene garantita una resistenza a 5 atmosfere se non sbaglio però c'è anche una meno attenzione secondo me anche nelle funzioni abbiamo questa funzione per esempio sul Galaxy che è molto carina non so quanto efficace ma quantomeno fa vedere l'attenzione che è il blocco vedete con la goccia mentre state facendo un bagno, una doccia, un bagno al mare eccetera cosa succede? nel momento in cui finite di fare ciò lui si sblocca e emetterà un suono dalle casse che libera quindi di fatto la pressione sonora dei bassi dovrebbe liberare un po' di quell'acqua che rimane fatalmente le goccioline nelle casse quindi migliorare anche l'espulsione dell'acqua cosa che invece nel Pixel Watch non è vi faccio vedere brevemente com'è sul Galaxy e poi vi faccio vedere il Pixel cosa abbiamo invece sul Pixel? abbiamo questa funzione che sostanzialmente è il blocco sott'acqua che è quello che avviene anche con la modalità acqua di Samsung quindi sostanzialmente il display è bloccato per riattivarlo si usa prima il tasto fisico poi si tiene premuto e lo smartwatch torna disponibile però non c'è questa modalità di espulsione dell'acqua un'altra gestione secondo me migliore sul Galaxy è quella relativa ai tasti fisici entrambi hanno due tasti fisici qui abbiamo la coroncina anche che ruota e quindi ci fa andare la lista delle app tenendo schiacciato andiamo al menu per lo spegnimento, riavvia e così via col doppio andiamo invece a Google Wallet qui abbiamo invece si vede un po' meno il tasto recenti tenendo schiacciato andremo alle app recenti e invece tenendolo schiacciato andiamo all'assistente facendo il doppio tap andiamo anche qui al Google Wallet qui abbiamo appunto il doppio tap anche su Samsung ma la cosa buona che sul Pixel non c'è è la possibilità di personalizzare il comportamento di questi due tasti per esempio il tasto home possiamo addirittura decidere sia cosa fare in caso di doppia pressione che in pressione prolungata il tasto dietro invece è solo per la pressione breve in ogni caso è una personalizzazione che preferisco perché vedete che io con questa watch face ho impostato Google Wallet come uno degli scorciatoi per secondo me è più veloce e in questo caso quindi per me il doppio tap sia di questo tasto che di questo è essenzialmente inutile nell'utilizzo e mi piacerebbe per esempio sul Galaxy Watch avevo impostato che la doppia pressione partiva al timer o la torcia insomma è una personalizzazione che secondo me Google dovrebbe adottare andiamo avanti a parlare di aspetti secondo me negativi per la scelta della funzionalità del muoversi all'interno del sistema connessa a questo tasto perché cosa abbiamo per esempio sul Galaxy Watch sul Galaxy Watch abbiamo di qui il pannello per diciamo le toggle rapidi di qua vediamo le notifiche di qua vediamo i widget tra virgolette e qua sotto andiamo alla lista delle applicazioni la scelta di Google è diversa qui abbiamo ugualmente i toggle a sinistra abbiamo invece i widget e a destra ancora i widget perché vedete che sostanzialmente è un carosello infinito si riparte poi si riparte da via rapido si fa tutto il giro si ritorna alla home e poi di nuovo il giro rapido a seconda diciamo chi va a sinistra o a destra fa il giro da un lato o dall'altro ma si torna poi indietro sotto si va alle notifiche e quindi come si va alle app si va schiacciando appunto questo tasto e poi ci si muove all'interno di questo menu che vedete che è anche molto diverso da quello di Samsung che è icone qui va a gusti carino questo forse un po' giocattoloso non abbiamo l'indicatore quindi qui magari è un po' più chiaro però ovviamente qui in una schermata ci sono più app e qui di meno e quindi secondo me è più lenta questa modalità perché per andare dalla home per andare alle app è veramente uno swipe velocemente invece qui comunque bisogna mettersi a schiacciare il tasto non è questa gran perta di tempo me ne rendo conto sono virgole però sai certe volte magari uno non ha anche semplicemente negli spazi un po' più angusti la possibilità di ampliare il braccio andare a mettere il dito e schiacciare qui invece un attimo swipe hop sembra anche molto più intuitivo perché è così che usiamo sostanzialmente i nostri telefoni per andare se avete una home di solito si fa lo swipe verso l'alto visto che parliamo di app un'altra scelta secondo me migliore di Samsung è quella della disinstallazione delle app per esempio noi abbiamo questa che non ci interessa quindi andiamo alla lista delle app teniamo schiacciato e vedete che c'è disinstalla cosa pensavo che fosse uguale anche su Pixel Watch quindi vado qua cos'è per esempio un'app che ho installato dopo questa qua tengo schiacciato e non succede nulla perché? perché per installare bisogna andare impostazioni app e notifiche informazioni app ti carica le app trovi quella che volevi e fai disinstalla insomma è una cosa secondo me molto più lenta e meno intuitiva altra scelta secondo me migliore sempre per quanto riguarda il sistema sono i toggle rapidi è vero che qui abbiamo tutto in un'unica schermata comunque bisogna navigare e vederli correrli verticale secondo me questa scelta orizzontale in cui però nella schermata ci sono tutti i toggle in un'unica schermata ben visibili è meglio tra l'altro abbiamo sempre attiva il bluetooth acceso qui possibilità di vedere se il telefono è connesso o meno qui in basso quindi se sei in alto non lo vedi con Samsung mi trovavo bene in questa funzione sostanzialmente col fatto che a ogni notifica che ci arriva potevi dirgli di accendere lo schermo quindi schermo always on disattivato sappiamo che il watch 4 poca autonomia il pixel watch sostanzialmente condivide questo discorso quindi per non avere l'always on attivo ma avere comunque un avvertimento che è arrivata la notifica attivavo questa funzione e lui ogni volta che diceva una notifica si accende lo schermo qui non è possibile quindi o abbiamo sempre l'always on attivo e quindi la batteria si consuma prestissimo oppure sempre spento quando arriva la notifica ovviamente senti vibrare però sei tu che devi andare a accendere lo schermo e poi andartela a vedere secondo me è più scomodo questa soluzione non è male è un buon equilibrio che ha funzionalità comodità e anche batteria perché certo consumerà un po' di più ma non tantissimo vediamo altre funzioni che secondo me vanno meglio sul Galaxy il non disturbare per esempio se noi attiviamo il nostro non disturbare sull'orologio sarà attivato il non disturbare automaticamente anche sul telefono è un'opzione che dovrebbe essere nell'app Galaxy Wearable e non qua ma comunque è una funzione che c'è cosa che invece non c'è qua perché per esempio faccio entrare un attimo in camera il fold a cui questo orologio è sincronizzato se io attivo il non disturbare vedete che qua il non disturbare è rimasto off e se io da qui per esempio lo disattivo e lo attivo da qua vedete che qui non si attiva quindi la mancata sincronizzazione secondo me è grave perché comunque secondo me i due device dovrebbero parlarsi e in ogni caso lascerei la scelta come accade per il Samsung tutto sommato per me devono essere collegati ma se uno non vuole li lascia scollegati cosa che invece non ti può far fare il pixel altre cose che si utilizzano soprattutto quando si usa il device nell'utilizzo quotidiano è la sveglia il timer e secondo me sono scelte che Google poteva fare migliori nel senso che l'impostazione di una sveglia se noi entriamo nelle sveglie qui da il Galaxy vedete che entriamo automaticamente nella lista delle sveglie che abbiamo adesso ovviamente è stock quindi c'è solo questa ma in ogni caso sarebbero tutte le sveglie che avete già utilizzato nell'uso quotidiano capita quasi sempre di riutilizzare le stesse sveglie quindi è una scelta che mi piacerebbe trovare anche qui entro nell'app sveglia trovo la lista delle sveglie se poi voglio aggiungere un'altra la aggiungo invece qua a meno che l'app non sia stata ancora in memoria se si entra nell'app della sveglia ti fa impostare una sveglia nuova quindi io mi ritrovo praticamente tutte le sere che devo andare a letto e devo impostare la mia sveglia per dormire ce l'avrei già salvata lui mi dice impostare una nuova no io voglio impostare una vecchia a questo punto devo fare swipe per fare indietro e torno nella lista delle mie sveglie e poi posso utilizzare quella che voglio parlando sempre di sveglia un'altra cosa che non mi va molto a genio anche se immagino che magari è una questione più personale è che io quando vado a letto attivo sia la modalità aereo che la modalità riposo la modalità aereo ovviamente disconnette qualsiasi cosa dal telefono a cui il device è collegato la modalità riposo evita l'accidentale accensione dello schermo magari per sbaglio toccando durante la notte si accende lo schermo e magari vi sveglia però cosa succede se noi impostiamo una sveglia nel momento in cui la sveglia suona e noi la disattiviamo lui automaticamente disattiva la modalità buonanotte non è una cosa grave però a me fa piacere tenere le due modalità sia modalità aereo che modalità buonanotte sempre attive fin quando decido io quindi quando decido finalmente di alzarmi dal letto tolgo la modalità buonanotte tolgo la modalità aereo a quel punto utilizzo l'orologio come dovrebbe essere non si può fare col pixel appunto perché nel momento in cui suona una sveglia tu la disattivi lui automaticamente toglie la modalità buonanotte finiamo la lista delle cose secondo me peggiori rispetto al Galaxy e riguarda l'autonomia iniziamo da una piccola premessa E LTE questo orologio in questo momento non è però connessa diciamo c'è la funzionalità LTE ma non lo attiva e comunque ha un po' più di 1000A di batteria quindi questo potrebbe anche aiutare ma abbiamo anche un display leggermente più grande questa versione in 40mm questo in 41mm quindi diciamo che ha una batteria un po' più grande ma è un LTE e uno schermo un po' più grande dovrebbe sostanzialmente equivalersi secondo me invece fa un pelo peggio per me batteria vuol dire non solo autonomia ma anche per esempio velocità di ricarica ecco nonostante la ricarica sia uguale quindi 5W per tutte e due a proposito i caricabatteria non sono intercambiabili questo solo col Samsung questo solo col Pixel ci vuole molto di più ad arrivare al 100% per questo Pixel Watch non so se è una scelta di mantenimento della batteria a lungo raggio ma questo comunque lo vedi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 questo invece arriva più come il Galaxy arriva sugli 80, 85 sereno poi dall'inpoi fa una fatica enorme ad arrivare al 100 io credevo ed è sicuramente anche un problema di temperature ovviamente ho utilizzato questo telefono negli ultimi due mesi sappiamo che caldo ha fatto quest'anno però anche adesso che le temperature stanno un po' scendendo ha lo stesso problema raramente io riesco a farlo arrivare al 100% ogni volta lo stacco anche tenendolo 2 o 3 ore come entrambi più o meno dovrebbero caricarsi in un'ora e 40 da 0 a 100 però questo si stacca a 100 e questo non riesco praticamente mai a staccarlo a 100 vedrò magari con l'inverno se migliora la situazione però insomma l'inverno è 6 mesi all'anno tra virgolette e il resto dell'anno è possibile che non si possa arrivare a 100 a meno di non mettergli sopra un ventilatore un'ultima cosa negativa secondo me riguarda la gestione dell'autonomia della batteria in sé è il fatto che se noi andiamo nel menu e andiamo in batteria lui ti dice batteria 55 carica rimanente questa puoi attivare risparmio energetico e niente di più il Samsung invece nel suo piccolo perché ovviamente le app sono di meno entri qui e comunque ecco vedete appunto che l'ho appena resettato quindi deve ancora avere la possibilità di apprendimento di modelli d'uso ma anche in questo caso entriamo dentro e ti dà un minimo in più di informazioni su come è stata utilizzata la batteria fino adesso e non è male perché se per qualche motivo c'è un'app energivora e non sapete quale non si può monitorare mentre su Samsung si può fare sul Pixel no la scrittura ovviamente gli schermi sono quelli che sono quindi già di suo è per definizione è quasi sbagliato scrivere su un smartwatch però c'è la possibilità ecco la scrittura secondo me è un po' peggiore qua perché ovviamente avendo questo schermo bordo curvo sui lati certe volte non prende bene la scrittura mentre qui essendo totalmente piatto la scrittura va bene c'è da dire che secondo me è pari perché comunque la scelta dello schermo curvo è una scelta secondo me più bella a livello di design passiamo a un altro aspetto sono le app installate beh potete immaginare cosa dirò siamo comunque sempre di fronte a un Samsung quindi sapete che ci saranno un sacco di applicazioni preinstallate in più e quindi da questo punto di vista può essere un difetto perché comunque c'è chi magari preferisce costruirsi su misura il proprio sistema e installare solo le app che si vogliono vero tra l'altro più app installate più possibilità di consumare qui per esempio abbiamo messaggi di Samsung e qui per esempio abbiamo messaggi di Google ecco un doppione per esempio le tante app installate di più però fa sì che sul Samsung si possa avere delle app che secondo me sono imprescindibili su un watch come per esempio la calcolatrice che vedete qui non abbiamo stock mentre qua c'è eccola qui e per esempio anche il registratore qui abbiamo il registratore di Samsung che è lo stesso installato sui sui telefoni Samsung Galaxy mentre qui io ho dovuto installare il registratore vocale facile che ho trovato sul play store quindi cosa succede che sul mio pixel volt che faccio entrare velocemente in camera ho doppia o un doppione il registratore di Google e il registratore facile per averlo anche sul watch certo c'è chi potrebbe dire potessi tenere solo il registratore facile e togliere dal fold il registratore di Google e però il registratore di Google ha delle funzioni sapete avanzate mica male come per esempio la trascrizione di quello che uno sta dicendo a parole quindi perché privarmene quindi diciamo pari perché sicuramente avere più app è più uno sbattimento per chi vuole cocirsi su misura del sistema e magari consumano di più però Google se vuole fare come dire un sistema più stock possibile delle app che secondo me sono imprescindibili su un watch deve metterle tra cui appunto calcolatrice e registratore vocale il sistema di sgancio del cinturino del pixel secondo me è meglio ci sono dei piccoli tasti che premendo e poi spostando il cinturino te lo fa togliere l'aggancio è più veloce anche perché non c'è da tenere schiacciato in questo caso il tasto ed eccoci qua qua invece abbiamo il classico metodo diciamo che abbiamo visto da qualche anno con questo per regolette piccolo piccanello che come dire va usata un'unghia o un qualcosa di appuntito per spostarlo poi tirarlo poi viene in fuori poi per rimetterlo dentro bisogna allo stesso tempo fare sì che si metta prima da un lato e poi stringerlo sempre da questo lato spingendo il piccanello di qua insomma è un po' più complicato però devo dire che questa parte finale più classica scelta da Samsung quindi vedete appunto con il cinturino che fa così entra in uno dei nostri fori e poi va dentro così secondo me è più sicuro perché? perché a me accade molto spesso che io questo sistema di blocco sostanzialmente fai passare il cinturino qui dentro poi lo blocchi qui per esempio io di solito lo blocco al quinto quando bisogna infilare questa parte qui nel buco bisogna ovviamente farla un po' ritrarre quindi farla formare un po' questa sorta di curva che abbastanza spesso fa succedere questa cosa qui quindi sì devo riagganciare rimettermi dentro insomma secondo me è un sistema come dire più sicuro più veloce più comodo questo qui del Galaxy come ultimo bonus al Pixel Watch però do il fatto che in confezione erano disponibili due cinturini per due misure di polso io ho il polso molto piccolo quindi ho scelto la misura più corta devo dire che il Samsung invece aveva solo questa misura e non a caso io mi pare lo utilizzassi con l'ultimo foro o addirittura il penultimo chiudiamo con le cose in cui secondo me il Pixel Watch è meglio del Galaxy Watch 4 e devo dire secondo me la piacevolezza la fluidità di sistema non so se è dovuto anche a come dire questo schermo a punto curvo che mi dà un po' più di piacevolezza ma io parlo soprattutto di fluidità a livello di intera movimento del sistema operativo ha 2 giga di RAM contro 1 giga e mezzo bisogna dire anche però che ha una CPU molto più vecchia rispetto a quella del Watch 4 come da tradizione nonostante i Samsung ormai siano quasi a livello e sono migliorati tantissimo i Pixel fanno meglio comunque dei Galaxy anche sui telefoni parlavo prima di autonomia secondo me è globalmente peggiore devo dire però che di notte va meglio perché? perché io mi ricordo che magari andavo letto col 100% qui quando mai lo raggiungo ma più o meno facendo una stima mi svegliavo e mi svegliavo a circa l'85% con l'orologio appunto in modalità buonanotte tutto modalità aereo con la stessa modalità attiva invece magari mi sveglio che sono l'87% quindi consuma 2 anche 88% 2-3% in meno dopo le stesse ore di sonno non so se è una migliore gestione dello standby o forse c'è da tenere conto che questo Pixel Watch ha meno sensori quanto meno funzioni i software per esempio non può misurare la pressione sanguigna chiudo dicendo quello che avevo detto anche un po' prima secondo me è più bello questo Pixel Watch rispetto a Galaxy Watch almeno nella versione base poi sappiamo che il 4 è uscito in Classic il 5 è in Pro il 6 è tornato il Classic magari hanno anche materiali più belli sono più belli da vedere ma io ovviamente avevo e ho il 4 e adesso ho il Pixel Watch secondo me è da vedere questo è più bello sicuramente il display stondato ma anche i materiali il colore gli abbinamenti chiaro questo è anche un nero molto banale qui abbiamo per esempio un cinturino anche che dà un po' più di look i cinturini sono intercambiabili per carità lo so bene stiamo sempre parlando comunque di cose soggettive e devo dire che comunque preferisco a livello di design generale il Pixel Watch al Galaxy Watch 4 bene direi che il video è autoesplicativo in questo senso nel senso che le conclusioni le possiamo tirare banalmente tutti nonostante un anno di aggiornamenti nonostante un anno di uscita il Pixel Watch ha ancora tanto da inseguire tanto da imparare rispetto al Galaxy Watch speriamo migliori nel futuro con nuovi aggiornamenti con la nuova generazione che uscirà però in questo momento stona veramente tanto il fatto che con l'uscita ormai di tre generazioni di Galaxy Watch Pixel e quindi Google non si è riuscito a tenere il passo su alcune cose che secondo me mancano sono fondamentali quindi globalmente non è assolutamente un cattivo smartwatch ha il difetto della batteria come bene o male hanno tutti gli smartwatch però gli mancano quelle due o tre cosine secondo me che non lo rendono ancora un'alternativa realmente valida ai Galaxy Watch nel mondo Android e anche per oggi è tutto noi ci vediamo al prossimo video